non è la maggiore intelligenza il professor otorno con i suoi esperimenti su 500 ragazzi ha ottenuto in tutte le prove di moralità un punteggio nettamente più alto di altri 500 ragazzi di intelligenza comune inoltre in tutti e due i gruppi i ragazzi più grandi hanno fatto meglio dei ragazzi più piccoli perché molti ragazzi crescendo diventano migliori infatti lo sviluppo dell'intelligenza porta con sé maggiore criterio commento non è la maggiore intelligenza che la sezione intellettiva del corpo mentale a portare maggiore criterio ma la coscienza che si unisce completamente e per ultima ai corpi fisico astrale mentale